La Procura di Lanciano ha disposto il dissequestro degli atti acquisiti nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del trabocco Il Turchino, avvenuto a San Vito lo scorso luglio. Il dissequestro era stato chiesto dal legale difensore del sindaco per evitare la perdita dei finanziamenti regionali, 75 mila euro provenienti dal Fondo Europeo per la Pesca, in quanto tra una settimana scadono i 90 giorni imposti dalla regione Abruzzo per l'affidamento dei lavori di ricostruzione della struttura, pena la decadenza del contributo. La documentazione di indagine era stata acquisita in comune lo scorso 17 dicembre con contestuale consegne al sindaco di San Vito, Rocco Catenaro, dell'avviso di garanzia per presunto reato ambientale legato alla distruzione o alterazione di bellezze naturali soggetti a speciale protezione, oltre al presunto reato dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, equivalente ad averlo cagionato in presenza di eventuali omissioni. Il comune ha già provveduto al taglio dei tronchi di acacia necessari alla ricostruzione del trabocco, ora si potrà procedere all'affidamento dei lavori. L'amministrazione comunale, come previsto dalle condizioni di finanziamento, dovrà contribuire all'operazione con una somma di pari importo che verrà reperita attraverso un mutuo, non essendo possibile reperire risorse disponibili nel bilancio comunale. Grazie a tutti.